Presidente della donanza, tenuto casetti sul posto dell'articolo 71,6 del decreto legge del 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale il proclamato eletto sindaco, il candidato alla medissima carica, ottenuto il maggior numero dei voti, accetta il candidato sindaco, il dottor Vincenzo Iaccarino, con numero voti 5.000. Grazie.